Gentili telespettatori, buona giornata. Il viaggio di Giorgia Meloni a Stoccolma, dove proverà a convincere la Svezia sulla questione migranti e poi a Berlino da Schultz, più o meno, con lo stesso indirizzo politico. Perché la Svezia è così importante oggi? Perché sono i presidenti dell'Unione Europea per sei mesi. Sapete che ogni sei mesi cambia la presidenza e la Svezia ha detto chiaramente con noi alla presidenza vi potete scordare qualunque redistribuzione automatica, cambi di trattati, come dire, con noi avete sbagliato proprio. Ecco, quindi la Svezia fa parte di quei paesi che dicono a noi non ce ne frega assolutamente nulla di voi e dei vostri problemi, non dovete neanche pensare minimamente di portarci i clandestini in maniera automatica. È quello che dice ogni Stato. Non esiste uno Stato che dice all'Italia, in Europa, si sei tranquilla, tu ogni giorno fai un certo numero di aerei e mi invii i clandestini che arrivano in Italia. Non c'è problema, tutti quelli che vuoi mandameli che... no. E l'Italia, se fosse al posto della Svezia, direbbe esattamente la stessa cosa come tutti gli altri 26 paesi europei. Quindi il viaggio di Meloni a Stoccolma, probabilmente lì saranno anche molto gentili, molto a modo, gli diranno beh sì, dè certo, poi vediamo, ma non si preoccupi, ma è certo che è importante questo tema, chiaro, e poi continuerà tutto nello stesso modo. La Meloni dopo comunque quelle regole sulle ONG che non servono assolutamente a niente, lo abbiamo visto con la prova del 9 della Geo Barents che per tre volte ha fatto soccorsi multipli. Cos'è successo? Assolutamente niente. Ma neanche una multa da 10 euro per divieto di sosta, niente. Eccolo sì, oggi il Presidente del Consiglio Meloni, il primo ministro Christerson, in vista poi del Consiglio europeo straordinario del 9-10 febbraio a Bruxelles. Perché il 9-10 febbraio si parlerà ancora di migranti, ancora per l'ennesima volta, ma è una causa persa, perché la Meloni l'unica cosa che può fare non è puntare sulla distribuzione dei clandestini che arrivano in Italia, che è improponibile. La stessa Meloni, se fosse in un paese del nord d'Europa avrebbe lo stesso identico atteggiamento degli svedesi, è ovvio. Quindi l'unica cosa che può fare la Meloni è convincerli a spendere soldi per una missione navale dove in accordo con la Libia fanno una sorta di blocco navale. Probabilmente magari non sarà una missione di tutti i paesi europei, perché non puoi convincerli tutti, ma una sorta di missione tipo quella che c'era già, come la chiamavano? Sofia, 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 dove c'erano delle navi che non si sa bene che cosa facessero nel Mediterraneo, scorazzavano avanti e indietro, ma non era un blocco navale. L'unica cosa che può fare è proporre che dei paesi volontari mandino delle navi che assieme a quelle italiane si dividano la spesa, perché lì poi il punto della spesa è ingente, per fare una sorta di blocco navale in accordo con la Libia. Questo è il punto. Il punto della Meloni è che la questione dell'immigrazione non la puoi risolvere in 60 giorni, neanche in 100, ci vuole più tempo. Sbaglia chi pensa che la Meloni possa fare tutte le promesse elettorali in 100 giorni e poi gli altri 4 anni e 7 mesi vivere di rendita perché ha già fatto tutto. E' un po' sciocco pensare che in 100 giorni debba esaudire tutte le promesse. Va bene. Le due materie principali riguardano la competitività delle imprese, la gestione dei flussi migratori. Dice la Meloni, ho ritenuto di venire qui perché penso sia un buon modo per aprire la discussione qui in Svezia che ha appena assunto la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea con governo appena nato per raccontare la posizione italiana che è quella di non limitarsi al tema degli aiuti di Stato che rischiano di produrre una difficoltà tra gli Stati che hanno maggior spazio fiscale e chi non lo ha, dice la Meloni. Chiedo maggiore flessibilità dei fondi esistenzi e alla creazione di un fondo sovrano europeo per aiutare le imprese europee in questa delicata situazione. Credo che sia legittimo per l'Italia nel momento in cui altri chiedono la difesa dei confini dai movimenti secondari porre il tema che ce ne sono di primari. A margine dell'incontro con lo svedese, Christerson a Stoccolma, la difesa sulla dimensione esterna credo sia il modo di affrontare questa situazione e devo dire che di fronte al racconto di quello che viviamo ogni giorno, delle difficoltà che stiamo avendo e del lavoro che sta facendo l'Italia, se lo facesse in maniera più significativa l'Europa farebbe la differenza. Sulla migrazione l'Italia ha richiamato l'attenzione sulla rotta mediterranea e sulla difesa dei confini esterni. I documenti di partenza sono degli importanti passi avanti. Nell'Unione Europea si parla molto di difesa dei confini ma il tema del mare e del Mediterraneo è più difficile da approfondire sul piano strutturale. Dice chiaramente la realtà che si vive qui in rapporto all'immigrazione è diversa dalla nostra nel senso che noi affrontiamo una situazione particolare in tutta Europa. la questione è che alla base dei documenti sulla difesa della dimensione esterna credo che sia il modo di affrontare questa situazione. È certo che in Svezia l'immigrazione è vista diversamente, non ci sono sbarchi in Svezia, non arrivano a piedi, è tutto molto diverso, molto lontano da quello che si vive in Svezia. Certo in Svezia non si vede quello che c'è alla stazione centrale di Roma, fuori dalle stazioni italiane, la gente accampata nei giardini. questo è un piccolo esempio di quello che in Svezia voi non vedete. In Svezia noi non si vede il degrado che c'è nelle città italiane, il livello a cui siamo arrivati e lì dicono ma sono affari tuoi, ma fai quello che vuoi ma non mi dare fastidio. Questo è il riassunto e andare a convincere chi sta bello tranquillo nel nord Europa, in mezzo alle montagne verdi dove c'è Heidi e le caprette che gli fanno ciao, insomma capite che è un po' è un po' difficile andare a convincere gente a cui non gliene frega assolutamente nulla dei tuoi problemi. Grazie a tutti, arrivederci a presto.